eccoci ci siamo ciao a tutti questa è la diretta associazione maggiorina di venerdì 8 maggio 2020 come sempre alle 18 questa è la nostra prova tecnica prima di iniziare dovreste vedere la schermata stiamo per iniziare e sentire la mia voce se è così come al solito scrivete gli ok perfetto la prima ho visto che è stata Emanuela Arnaldo, Matteo, Giovanni Aldo vediamo se arriva qualcun altro e poi partiamo Milan, Franco, perfetto vedo che va bene un po' dappertutto quindi siamo pronti per iniziare ciao a tutti bentornati sul canale youtube di associazione culturale maggiorina a una delle nostre dirette pomeridiane che come sapete in questo periodo facciamo sempre alle 18 bene oggi parliamo di Microsoft Word Online completiamo questo argomento con il dodicesimo video componenti aggiuntivi vediamo quindi come aggiungere funzionalità a Word Online poi come sempre un argomento non è mai finito perché si può sempre dire qualcosa di nuovo si può sempre fare qualcosa di nuovo col computer però in linea di massima possiamo dire di avere visto quello che è Word Online comunicazione di servizio interrompiamo la sequenza di dirette ininterrotte per cui oggi è venerdì benissimo domani e domenica la diretta non ci sarà usciranno comunque dei video quindi domani sabato uscirà un video registrato sempre a quest'ora e domenica uscirà sempre a quest'ora un video registrato questa volta per gli abbonati per cui mi raccomando se volete seguire tutti i video iscrivetevi al canale e attivate la campanella e lunedì invece alle 18 saremo di nuovo in diretta e quindi proseguiamo a farci compagnia verso le 18 di sera ok ora disegno la riga in chat quella solita per le domande la facciamo sempre doppia mi era piaciuta l'altra volta farla doppia quindi da questa riga in poi eccola qua risponderò alle vostre domande ora andiamo a vedere l'argomento di Word Online per cui rimpicciolisco questo browser torno ad aprire Microsoft Edge sapete che utilizzo sempre Edge per usare Word Online e vado su home page di Microsoft Office eccola qua l'abbiamo salvata nei preferiti tempo fa qui abbiamo tutte le nostre applicazioni disponibili online vediamo che ce ne sono alcune ad esempio questa che non ho mai utilizzato e altre ce ne sono qui quindi magari in futuro approfondiremo anche questi discorsi apro Word per cui apro mi chiede di aprire un documento recente o di aprirne uno nuovo documento nuovo e arriviamo ora sulla pagina di Word dove vediamo cosa sono questi componenti aggiuntivi benissimo quindi Word Online ci permette di scrivere e di fare un sacco di cose che abbiamo visto nei video precedenti però non fa tutto il Word quello che abbiamo nel nostro computer fa di più e quindi un po' ci sembra che manchi qualcosa in realtà Word Online ha la possibilità di essere espanso con nuove funzionalità se io vado nel comando inserisci quindi sulla scheda dei comandi inserisci trovo la voce componenti aggiuntivi cosa significa questa voce significa che io posso espandere le funzionalità di Word aggiungendo dei pezzi delle cose che magari mi interessano vediamo quindi premo su componenti aggiuntivi e questi componenti aggiuntivi sono estensioni un po' come le estensioni del browser una volta che ho scelto componenti aggiuntivi sono arrivato nello store di Microsoft di Microsoft Office questi sono componenti aggiuntivi per Microsoft Office quindi sono cose che io posso aggiungere a Word Online per poterlo far funzionare diversamente per potergli fare più cose sono gratis o sono a pagamento alcune sono gratis alcune sono a pagamento ad esempio qui c'è scritto può essere necessario un ulteriore acquisto quindi potrebbe essere qui che se io utilizzo questo ci sia da pagare qualcosa ma nel caso me lo chiederanno quindi non è che schiaccio e poi dopo mi ritrovo ad aver pagato qualcosa senza accorgermene se c'è da pagare ce lo chiedono queste stelline servono a capire la valutazione degli utenti di questo componente aggiuntivo cioè è bello non è bello come mi sono trovato eccetera queste che troviamo qui alla sinistra sono tutte le categorie quindi se io cerco un determinato componente magari può essere utile andare a scegliere una determinata categoria per filtrare solo per quella categoria i componenti aggiuntivi oppure potrei andare a scrivere qualcosa all'interno qui ad esempio posso scrivere dizionario noi lo scriviamo in italiano magari sarebbe più giusto scriverlo in inglese e qui vediamo che ci sono dei qualcosa relativi ai dizionari qui però non sono scritti in italiano e quindi non è detto che questi dizionari siano in italiano bisognerà guardare ma noi andiamo in tutto vogliamo capire come funzionano questi componenti aggiuntivi togliamo la ricerca in modo da eccoci qua da vedere tutto dicevo non è che vogliamo vedere ogni singolo componente cosa fa questo cosa fa quello vogliamo capire il mondo dei componenti aggiuntivi e renderci conto che posso ampliare le funzionalità e vedere come posso fare io ne ho provati un paio e li ho scoperti perché mi serviva fare una cosa e quindi l'ho fatta l'ho fatta grazie a questo allora vi faccio vedere quelli che ho provato ne ho provato più di più di un paio ma trovo interessanti questo questi simboli e caratteri quindi questo inserisce facilmente simboli caratteri speciali e motion con la ricerca automatica dei puntini puntini vabbè dico aggiungi non so se cliccando qui ho una descrizione più completa o se posso fare direttamente aggiungi per aggiungerlo voglio provare prima a cliccare qui per vedere se c'è una descrizione più completa del componente eccolo qua sì mi mostra le cose quando ci sono questi pallini vuol dire che ci sono delle slide delle immagini successive cambiano da sole ma io posso andare a cambiarle premendo qui quindi questa cosa qui sembra inserire vari simboli vediamo cosa dice la descrizione qui poi basta leggere eccetera ok dai mi piace lo voglio provare aggiungo il componente aggiuntivo simboli e caratteri ricerca rapida del simbolo del simbolo condizioni di licenza d'accordo qui basta leggere ma sono le solite cose quindi continuo e ora ho aggiunto un componente aggiuntivo sarà finito da qualche parte eccolo che arriva qualcuno potrebbe chiedersi ma occupa dello spazio nel mio computer no perché questo non è installato nel computer ma è su word online quindi eccolo qua nel mio nel mio menu qui si è aggiunta la come dire la la scheda di comando componenti aggiuntivi e adesso c'è dentro questo è apparsa questa icona queste sono tutte le schede di comando di prima e ce n'è una nuova componenti aggiuntivi e c'è questa icona la proviamo premo ed ecco che appare questa cosa giusto dietro di me allora vediamo se posso spostarmi un po' e datemi un attimo che vado a cercarmi e spostarmi un po' e ci vuole un pochino perché sono un po' lento a fare questi movimenti arrivo 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 ecco che mi sto togliendo perfetto ora ci sono torniamo alla visualizzazione della chat bene qui ho dei componenti sono raggruppati per argomento qui vedo emotion emoticon emoticon insomma le emoji classiche german currency arrows quindi arrows frecce premo e qui ci sono tutte le frecce quindi posso voler inserire questa freccia ed eccola qui questa freccia è stata inserita all'interno del mio testo posso ingrandirlo andiamo a ingrandirlo quindi questo a tutti gli effetti è un carattere ho inserito un nuovo carattere in word come se fosse testo eccolo qua ed è quella freccia vediamo cos'altro cos'altro c'è allora togliamo questo vediamo cos'altro c'è voglio provare le stelle o questo le frazioni ho bisogno di scrivere dei simboli relativi alle frazioni eccole qua mettiamo 4 quinti ed ecco il mio simbolo 4 quinti possiamo ingrandire un po' la pagina così vediamo meglio eccolo qui quindi questo è testo a tutti gli effetti lo posso colorare lo posso ingrandire testo come siamo abituati a fare di solito torno alla casa voglio provare vabbè i singoli i simboli tedeschi in questo caso sono le umlaut e le varie cose che magari non abbiamo comode sulla nostra tastiera vediamo cosa c'è in linguaggi scegli un linguaggio quindi io ho bisogno di scrivere in in qualche altro linguaggio adesso io non non so dire le caratteristiche particolari vabbè prendiamo questo lituano sembra ecco qua ci sono dei simboli delle lettere alfabetiche dell'alfabeto che non è come il nostro vedete che sono simboli diversi e quindi non riuscirei a trovarli qui posso andare ad inserirli ed ecco qua che ora riesco a gestire questi questi simboli e qui cosa c'è invece subset e anche qui ci sono delle altre cose e qui non so bene di cosa si tratti ma ovviamente chi ha bisogno di queste cose è facile che ci riesca vediamo cosa dice questo avrà a che fare qualcosa con la Grecia vediamo e anche qui ci sono altri altri simboli perdonate il fatto che non so cosa siano quindi la mia ignoranza in merito voglio mettere questo beh questo il sigma lo conosciamo un po' tutti l'abbiamo già visto anche in excel ok quindi questo è un componente aggiuntivo secondo me interessante ovviamente questi possono essere poi interposti ad un discorso quindi scrivo normalmente normalmente se riuscissi normalmente del testo e all'interno di questo testo poi vado a inserire il simbolo che mi interessa lo voglio mettere nero perché mi piace di più ok ci siamo questo è un discorso volevo vedere una cosa allora io adesso ho scritto questo testo chiudo vado via torno alla home page di microsoft word quindi sono uscito da word quando torno in word quel componente aggiuntivo che a me piaceva tanto c'è ancora vado su un nuovo documento quindi scrivo una lettera nuova un nuovo documento è proprio quello il caso di chiamarlo col termine giusto e c'è ancora il componente aggiuntivo qui non vedo più componenti aggiuntivi quindi non c'è più in questo caso allora se io vado su inserisci non c'è più caspita devo reinserirlo tutte le volte no mi basta andare in componenti aggiuntivi qui c'è la voce i miei componenti aggiuntivi questo è lo store dove ci sono tutti questo invece è i miei componenti aggiuntivi lo premo e dico aggiungi e di nuovo me lo trovo subito me lo trovo subito qui ed ecco che premendo torno ad utilizzarlo quindi è abbastanza veloce prendiamo una faccina sì queste sono le classiche faccine eccole qua devo dire che è abbastanza veloce utilizzarlo allora questo documento documento 1 lo chiamo da cancellare perché questo documento con questa faccina lo voglio togliere ok torno nella home page di Microsoft Word anzi vado in OneDrive vado in OneDrive perché voglio fare un po' di pulizia allora questo da cancellare lo voglio buttare via quindi lo seleziono e lo elimino ora mi interessava capire se questo documento che è quello dove abbiamo messo i simboli aggiuntivi la prima volta ha ancora lo strumento componenti aggiuntivi già disponibile apro questo documento per capire se devo aggiungere il componente tutte le volte o se invece c'è già questo documento che contiene dei simboli componenti aggiuntivi cioè in questo documento io ho aggiunto il componente aggiuntivo a questo dei simboli ha mantenuto al suo interno la voce componenti aggiuntivi eccolo qua quindi per questo documento non devo caricare nuovamente il componente aggiuntivo perché è rimasto memorizzato all'interno del documento diciamo quindi un lavoro già fatto bello mi piace questo componente penso che lo otterrò o che lo utilizzerò spesso un altro componente aggiuntivo che voglio farvi vedere per farvi rendere conto di quante cose diverse anche tra loro può essere e può fare il nostro Word è questo vi spiego prima a cosa serve allora e come l'ho trovato torno nel sito amici di Maggiolina perché c'è quello che voglio farvi vedere che è questo questa copertina vediamo se riesco a vederla più in grande ecco questa copertina che ho disegnato intanto ringrazio Roberto per l'uso della super chat grazie grazie infinite Roberto per noi è un sostegno importantissimo non ho guardato la chat in precedenza no ok ho ringraziato già tutti grazie infinite Roberto dicevo questa cosa questo specie di diagramma che io ho disegnato mi serviva per da mettere in copertina e mi sono detto caspita com'è che disegno questo diagramma e beh uso Word e disegno il diagramma però a questo punto mi sono detto ma sai che magari proviamo a disegnarlo con Word Online quindi ho trovato un componente aggiuntivo che disegna queste cose proviamolo così lo vedete anche voi quindi rimpiccioliamo qui torniamo in Edge prendiamo un documento di Word nuovo quindi io questo lo chiudo qui faccio i miei file OneDrive no dove è che posso andare vabbè torno su Word da qua oppure da qui allora Word in modo da avere un nuovo documento nuovo documento vediamo se me lo da bianco perché io lo volevo proprio pulito da zero eccolo che arriva benissimo inserisci componenti aggiuntivi tra i miei componenti c'è questo dei simboli ma io voglio cercare nello store un altro componente allora questo lo trovo vediamo questo draw io diagrams questo aggiunge dei diagrammi premo sopra per vedere di cosa si tratta eccolo qua serve per disegnare un'infinità di cose io l'ho usato proprio un solo in maniera elementare ma fa delle cose fantastiche dico aggiungi continuo e ora avrò questo nuovo componente vediamo se viene caricato non lo vedo da nessuna parte eccolo qua questo componente è stato inserito direttamente alla voce inserisci quindi non c'è una linguetta nuova ma c'è direttamente sotto inserisci questo componente ok proviamo a usarlo quindi premo qui questi sono vari comandi relativi al componente ma io so che questo è quello che lo lancia premo qui si apre questa finestra eccola qua che mi dice cosa voglio fare mi dice senti c'è un diagramma da dove lo vuoi prendere lo vuoi prendere da da OneDrive lo vuoi prendere da Google Drive lo vuoi prendere dal tuo computer se l'hai salvato sul tuo computer ma io in realtà non lo voglio prendere da nessuna parte vabbè senti dico senti prendi da OneDrive però in realtà io ne voglio disegnare uno nuovo non ce l'ho questo componente quindi fammelo disegnare sì qui dove c'è nuovo mi permette di disegnare un componente quindi vado su nuovo allora vabbè qua mi chiede se voglio tradurre la pagina la traduciamo ma sì dai traduciamo io l'ho sempre usato in inglese perché tutto sommato mi sono trovato bene però traduciamola allora creare un nuovo diagramma premo eccolo qua qui ci sono mille tipi di diagrammi quindi mille modelli di diagrammi che io potrei utilizzare ma io voglio partire da zero voglio fare un esempio di questo genere allora diagramma vuoto creare utilizzare la cartella principale no mettilo in una cartella particolare allora io la voglio mettere nella cartella esperimenti del mio OneDrive quindi questo diagramma verrà salvato nella cartella esperimenti di OneDrive salva ma solo perché fantasia mia lo voglio fare così eccolo qua quindi adesso io sono pronto per come dire salvare questo diagramma il diagramma si chiamerà diagramma non titolo draw io posso ovviamente cambiare il nome se lo vado a cambiare devo fare attenzione a non cambiare il nome draw io cioè la parte punto draw io non deve essere cambiata questo lo chiamiamo live ok rinominare e adesso ho questo foglio quadrettato vediamo se posso zoomarlo che mi permette di disegnare un diagramma allora un po' troppo grande quindi prendo un componente ce ne sono infiniti prendo questo che mi piace che vuol dire questo rettangolo con gli angoli stondati allora io questa cosa non l'ho mai usata l'ho usata un paio di giorni fa ma prima di un paio di giorni fa e non l'avevo mai usata questa cosa e quindi nel computer noi non potremmo essere capaci di disegnare di fare tutto però in realtà tutte le cose che si fanno a computer a parte alcune particolarità sono sempre quelle cioè sono concetti che abbiamo già visto da altre parti per cui ad esempio noi sappiamo che un'immagine può essere allargata o ristretta dall'angolo dal lato per allungarla e basta quindi da queste manigliette io posso andare a gestire l'immagine da questo simbolo semicircolare io posso ruotare questo pulsante dal centro io posso spostarlo quando ho la croce quindi queste cose non ho avuto bisogno che qualcuno me le insegnasse ormai abbiamo visto tante cose e abbiamo visto powerpoint abbiamo visto inkscape jimp word eccetera e certi concetti sono sempre questi ad esempio questo pallino qui arancione secondo me quel pallino lì arancione cambia la curvatura del mio rettangolo se io lo prendo e lo sposto ecco che cambia la curvatura del rettangolo se lo sposto dall'altra parte diventa quadrato quindi angolo vivo lo tengo così ok benissimo poi guardandomi attorno beh ci sono vari pulsanti questo ha l'ombra vediamo shadow sta per ombra vediamo ecco che il mio rettangolo adesso ha l'ombretta mi piace di più qui ci sono gli stili stile c'è scritto per cui io premo e cambio il colore il bordo dell'oggetto qui potrei farlo manualmente colore del bordo posso dirgli verde scuro ok colore del riempito riempimento posso dirgli questo colore qui ok fatto però io dagli stili posso andare a scegliere uno stile di mio gusto questo con le sfumature mi piace vabbè questo azzurro ok e questo è uno stile ci scriviamo dentro premo due volte perché di solito nei box nei quadrati l'abbiamo visto in powerpoint serve cliccare due volte per scrivere e adesso ci scrivo dentro allora scrivo dentro canale scrivo al suo interno ho sbagliato qualcosa vediamo canale perché non mi fa mi fa uscire queste scritte strane proviamo a ingrandire diversamente allora se io scrivo c una cosa stranissima vediamo allora andiamo qui ci sono le cose sinistre ho sempre potuto scrivere senza nessun problema ok e niente allora proviamo a scrivere qualcosa d'altro live in diretta su youtube a questo punto mi risulta strano ho provato a cancellarlo stranamente scrive scrive cose da solo allora proviamo di nuovo funziona bene comunque è la prima volta che mi capita questo scherzo e quando c'è questa quando succede qualcosa di strano è sempre colpa nostra ci sarà qualcosa per cui mi sfugge qualcosa che mi sfugge per cui fa così allora prova prova lo prende facciamo così allora live e invece con live ah traduce la traduzione ragazzi la traduzione allora chiudiamolo chiudiamolo ripartiamo ripartiamo con nuovo non traduciamo allora create un nuovo diagramma intanto ringrazio Pasquale ciao Pasquale e benvenuto tra gli abbonati associazione Maggiolina benvenuto allora un nuovo diagramma qui posso dargli direttamente il numero il nome quindi tengo il punto draw io e prima lo chiave davanti al punto allora il punto lo devo mettere scrivo allora diagramma in live creiamo yeah ah non ho scelto no mettilo in un folder specifico esperimenti salva ora arriva eccoci qua vado a prendere il nostro oggetto diamogli lo stile di prima lo stile di prima era vedete che è in inglese ma insomma è sempre quello il discorso lo ingrandiamo un po' doppio clic canale youtube allora adesso sono io che scrivo male as Maggiolina vedete che adesso scrivo senza problemi non c'è la traduzione in questo caso seleziono tutto uno due tre triplo clic per selezionare tutto l'abbiamo visto proprio in word in word online allora tipo di carattere diverso questo comic sans dimensione diversa 24 cos'altro possiamo dire il colore del carattere da qua anche da qua posso fare le modifiche c'è il colore del carattere si font color rosso questo rosso qua mi piace meno ecco questo qui vediamo canale youtube as Maggiolina perfetto allora nel canale youtube as Maggiolina ci sono i corsi quindi quando io vado in corrispondenza di questo di questo oggetto vedete quasi sbiadite delle friccine qua vedete se io premo ecco che mi viene creato un altro box collegato da una freccia perché stiamo stiamo scrivendo dei stiamo facendo dei diagrammi quindi a questo qui io posso andare a scrivere dentro doppio clic e scrivo corsi base corsi base questo lo voglio rimpicciolire un po' vedete che lo posso anche spostare la freccia viene con me guardate che bella questa cosa allora corsi base e poi qui se vado sulla destra corsi base di allora computer base scriviamolo con le maiuscole computer base poi sotto internet poi sotto powerpoint scritto giusto sì poi sotto vediamo microsoft word no word online facciamo eccetera eccetera quindi io posso gestire tutte queste cose vedete guardate le frecce come vanno allora innanzitutto rimpiccioliamo un po' innanzitutto questi sono tutti tutti scombinati li vorrei allinearle allineare bene li seleziono manca questo che vado a toccare e manca questo che vado a toccare ora sono selezionati dove c'è arrange sta per allinea qui c'è la possibilità di allineare gli oggetti tutti allineati eccoli qua però sono a distanze scombinate non mi piacciono queste distanze scombinate li seleziono e dico disponi verticalmente ed ecco che gli oggetti adesso sono tutti quanti verticalmente ben disposti allora questi qui li voglio di un colore diverso quindi seleziono vado a prendere uno stile diverso questo ok perfetto così mi piace manca l'ombra allora selezioniamo tutti e mettiamo l'ombra eccetera qui poi ci si sbizzarrisce a piacere ora questo diagramma lo salviamo file save sta per salva ed è stato salvato a posto chiudo e lo voglio inserire adesso questo diagramma per cui io sono in word online quindi da un'altra parte ho disegnato le cose in word online devo inserire un diagramma allora questo diagramma dove lo trovo? dentro allora facciamo così faccio cremo su draw io così si ricarica la pagina questo diagramma ce l'ho in one drive ce l'ho dentro esperimenti e si chiama diagramma in live vedete che ce ne sono degli altri perché ho fatto degli esperimenti appunto nei giorni scorsi diagramma in live inserisci ed ecco che ora il diagramma viene messo nel mio documento di word nella mia pagina di word eccola qua ed è un'immagine quindi questa è gestibile come un'immagine lo posso rimpicciolire lo posso ingrandire eccetera eccetera come se fosse un'immagine abbiamo visto in video precedenti come gestire le immagini e questo documento questo documento uno lo posso salvare lo chiamo con diagramma ci posso mettere del testo eccetera eccetera allora primo invio il documento viene salvato e sono a posto quindi ho inserito un componente aggiuntivo per disegnare i diagrammi e adesso nel mio documento c'è un diagramma torniamo fuori quindi vado qui vado in word vediamo cosa succede questo è il mio documento con diagramma vado ad aprirlo e adesso apro un file di word che contiene il diagramma eccolo e io posso lavorarci potrei volerlo modificare è possibile lavorare in questo modo allora componenti aggiuntivi ah questo componenti aggiuntivi era l'altro non mi interessa allora io seleziono questo allora inserisci componenti aggiuntivi draw io aggiungi voglio modificare un voglio modificare un diagramma questo diagramma ma già selezionato lo voglio modificare edit selected cioè modifica agisci su quello selezionato premo qui allora draw io vuole visualizzare una nuova finestra eh sì mi serve poi abbiamo finito eh ragazzi eccolo qua tutti i testi li voglio in verde allora selezioniamo tutto testo beh qua da nero però non so se posso farlo a tutti facciamolo qua dai questo seleziono così ecco questo lo voglio in verde verde ok per caspita verde non si vede niente allora blu ok così è fatto salvo file tutte le modifiche sono state salvate non serve neanche che vada io già salvato chiudo e adesso dovrebbe aggiornarsi la pagina e il mio diagramma dovrebbe venire aggiornato vediamo eccolo qua in blu ed è fatto per cui se io avessi scritto un documento con tante pagine avrei potuto inserirvi un diagramma e questo diagramma adesso è aggiornato salvato in one drive a posto bene ragazzi fine di questo di questo argomento così ci teniamo un po' di spazio per le vostre domande traccio la solita riga sperando di riuscire ad arrivare in tempo a rispondere a tutte quante ok ci siamo grazie intanto per i mi piace ragazzi i mi piace per noi sono importantissimi per cui grazie a infiniti dei mi piace se volete premere mi piace adesso se vi è piaciuto benissimo grazie poi un'altra 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 cosa che volevo dire beh grazie alle super chat ai super sticker e ai ragazzi che si sono abbonati perché è un sostegno per noi indispensabile grazie mille allora andiamo alle nostre alle nostre domande ho visto Sergio intanto sotto che ha scritto e meno male che è un word semplificato eh sì ragazzi il computer può fare un sacco di cose si tratta di cercarle guardarle non potremo mai imparare tutto il computer dobbiamo imparare delle singole azioni vedete che alla fine si tratta di toccare l'oggetto e trascinano per spostarlo prendi la maniglietta e ruotalo si fanno le stesse cose ovunque basta prendere un po' di dimestichezza allora Gianfranco buonasera Daniele sempre grazie per le tue spiegazioni chiarificatrici grazie Gianfranco salutiamo Maria Carmelina ciao Nicola e anche io ho notato to do mi piacerebbe un video dedicato infatti ci ho pensato poi vedremo vedremo di lavorarci Nicola allora Paolo quinto dice Daniele conosci un buon programma di diagnostica no non sono non sono in grado di dirti niente con questo su questo argomento vediamo cosa dice Carlo Daniele è possibile una certa sincronia tra programmi Office Online per esempio se creo una tabella su Excel posso inserirla in Word Online è probabile di sì però non te lo so dire vediamo allora se io sono in Word Online è probabile di sì perché di solito si può fare negli altri se io faccio inserisci beh qua in realtà no potrei allora provare ad aggiungere una nuova scheda andare in Home di Microsoft Word aprire Excel apro una tabella già esistente vediamo se me la apre non me la apre perché l'ho spostata io quindi devo andare a come faccio per facciamone una nuova 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 cartella di lavoro creiamo una tabella velocemente allora prove tecniche prove tecniche 1 2 3 4 allarghiamo la colonna facciamo il grassetto allineiamo al centro al centro non è questo al centro questo ecco ok selezioniamo c'è copia copia andiamo in Word ma questo con diagramma e facciamo incolla c'è incolla incolla ed eccola qua è apparsa è apparsa un po' diversa vediamo se facciamo una somma allora qui ci metto la formula premo ESC per togliere la copia la formula somma automatica questo perché 1 2 3 4 da 10 1 più 2 fa 3 3 più 3 fa 6 6 più 6 più 4 fa 10 ok bravo computer selezioniamo selezioniamo copia torniamo in Word qui ne inseriamo un'altra incolla tabella se io scrivo un altro numero qui vediamo se scrivo 5 no questo non lo aggiorna per cui qui c'è solo il testo ma non c'è non c'è la formula però vediamo che la tabella me la copia quindi ho potuto disegnarla di là e poi prenderla prenderla qui e ora la gestisco come se fosse una tabella se voglio layout tabella selezionare tutta la tabella e poi metterla in centro allora home centra si funziona quindi posso fare le solite cose con la tabella quindi direi di sì Carlo alla tua domanda ciao Luigi ciao Adam non ho capito dice Adam però non ho non ho capito se dici a me o cosa Adam allora Sergio che vogliono i soldi te lo dicono in italiano però dice Sergio quando c'era da pagare sì in quel caso sì ed è positivo ok Sergio allora Osvaldo ciao come bloccare le prime due righe in Excel quando sono in Excel allora vado in Excel questo è il mio Excel classico quindi non non in non quello online forse si può fare anche online ma facciamolo su questo perché immagino lo chieda qui vado a prendere un esercizio allora io ce li ho qui in sfoglia spazio di archiviazione documenti esercizi nuovi Excel e un esercizio giusto è dov'è qui dipendenti dipendenti eccolo qui cosa capita allora abilita la modifica cosa capita che quando io faccio scorrere caspita quella riga lì scorre su la voglio bloccare mi posiziono appena sotto della riga se è questo spero che sia che intendi Osvaldo vado su visualizza se non sbaglio e blocca riquadri blocco riquadri e a questo punto quando giro la riga resta tu dicevi le prime due righe beh in quel caso ti metti sotto di due ecco se è quello il concetto questo è quello che mi viene in mente lo tengo aperto così se per caso approfondisci ce l'ho già pronto poi Tiziano ciao Tiziano ciao ciao Morris lo sapevo che cominciavi alle 18 è sempre alle 18 allora Yolando ciao Daniele buona serata ciao Liborio ciao il Underview Osvaldo i file in OneDrive occupano spazio occupano spazio su OneDrive abbiamo 5 giga mi sembra di spazio disponibile gratuito in OneDrive occupano spazio lì non nel computer Liliana ciao a tutti eccomi la mia prima esperienza in una chat dal vivo ciao Liliana allora ben arrivata Francesco buonasera a te ciao Attilio l'altro Francesco dice buonasera a tutti ciao Daniele mi fai vedere dove si mette il mi piace nella diretta chat allora io non posso mostrarlo perché non posso andare sulla mia sulla mia diretta mentre sono in diretta ma sotto al mio riquadro dovrebbe esserci il pollice del mi piace quindi lì sotto altro non posso dirti senza proprio mostrarlo poi Maria Rita ciao a tutti bella questa chat dal vivo saluto Edo che dice subset sotto insieme grazie Edo ciao Rosi da Varese Nica ciao Daniele ciao a tutti Daniele c'è un modo per svuotare OneDrive completamente senza dover selezionare ogni cosa singolarmente ragazzi non è che sia tanto complicato allora esco da qui vado direttamente in OneDrive le cose vanno selezionate perché ovviamente bisogna essere certi di quello che si cancella se voglio cancellare queste cose traccio un rettangolo seleziono e poi elimino non so se ci sia un seleziona tutto ma sarebbe un po' pericoloso vediamo se faccio ctrl A si ctrl A come nel computer normale quindi nella cartella tengo allora vado fuori tengo premuto il tasto CTRL poi la A come all si scrive all'inglese come in tutto il computer ctrl A seleziono tutto e poi decido di copiare spostare cancellare eccetera poi Iole ciao Iole ciao Dennis Roberto grazie della super chat vedo un'altra super chat Yolando grazie infinite Yolando della super chat grazie mille grazie super sticker nel suo caso allora poi Flora ciao Flora come eliminare la cronologia della postazione della posizione sul cellulare non trovo il comando non so dirtelo adesso in questo momento dipenderà anche dal dal cellulare vedo Augusto ciao Augusto grazie infinite per lo super sticker spegnetela la posizione così non si fanno non si fanno cronologie ora non sono in grado di rispondere a questa cosa dovrei vedere bene di cosa di cosa si tratta e cosa intendi come cronologia e dove la vedi allora Sergio il metodo più veloce per scrivere due colonne parallele in word allora in questo word non lo so andiamo a vedere se c'è qualcosa qua se prendo un testo vediamo se troviamo un pepita il mostro questo è in francese ma vediamo se c'è il testo lo vediamo anche se è in francese è lo stesso non mi ricordo se da qua lo vedevamo seleziono perché ormai l'ho fatto in talmente tanti posti che non mi ricordo se l'ho fatto anche qui e se qui c'è di solito lo trovavo in layout questo comando e qui non c'è il discorso delle colonne se io invece apro questo programma nel word desktop cioè nel word del mio computer apro questo file non programma qui gli dico sì apri questo file nel mio word vero vero per dire insomma quello nel mio nel mio computer eccolo qua lo seleziono e qui in layout trovo colonne eccolo e scelgo due colonne o tre colonne ora due colonne ed ecco fatto quindi io scrivo normalmente e word se pare in colonne ha fatto solo queste perché io avevo selezionato solo queste però lui farebbe farebbe anche tutto il testo volendo facciamo tre colonne eccole qua ecco fatto questa cosa facciamo una colonna stretta a sinistra e una larga a destra eccetera 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 allora poi vediamo cosa dice Massimiliano sta parlando a Osvaldo ok ciao Luigi vediamo cosa dice Uzzeddo la linea si interrompe di frequente inoltre ho cominciato a guardare perdendo l'inizio se sarà disponibile guarderò la lezione registrata ok probabilmente lui è andato però si ci sarà la registrata disponibile e la linea è un problema tuo in questo caso perché noi siamo a posto come 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 diretta comunque bene ci vediamo in registrata allora ok poi Roberto per me la cosa più difficile è capire qua quello che ti viene chiesto da quelle finestrelle in inglese quando installi qualcosa è certo sapere l'inglese aiuterebbe a volte anche quando in italiano si fa fatica a capire ma bisogna che ci abituiamo un po' alla volta poi Luigi bello questo software interessante Pasquale che si è abbonato grazie Pasquale Bruno una buona serata a tutti grazie Bruno buona serata anche a te Ennio Daniele in Word a pagamento non è possibile aggiungere componenti aggiuntivi magari intervenendo sulle impostazioni non ne ho idea non ho mai provato ma probabilmente sì però adesso non ti so rispondere vediamo se vado su inserisci qui inserisci vediamo se ce ne sono già un'infinità comunque ottieni componenti aggiuntivi premo e alla fine arrivo nello stesso posto quindi si può fare si possono fare le stesse cose i miei componenti aggiuntivi qui non ce n'è e sullo store posso andare ad inserire un altro componente aggiuntivo prendiamo sempre questo draw io aggiungi continua e vediamo cosa succede verrà scaricato presumibilmente ed eccolo qua quindi draw io apro vediamo se mi va a leggere il componente da OneDrive qui mi chiede di accedere allora qui sto accendendo sto accedendo al mio account Microsoft password accedi mi pare di aver detto accedi provo di nuovo provo di nuovo ok sta succedendo qualcosa di là contatto di privacy no qui ho sbagliato a schiacciare qualcosa allora facciamo così allunghiamo la finestra ecco accedi c'erano due scritte insieme quindi creavano problemi è stato interrotto devi fare di nuovo allora facciamo di nuovo OneDrive ah no però sono entrato quindi esperimenti live draw io diagramma in live qual era dei due? diagramma in live inserisci ed eccolo qua il nostro diagramma inserito nella colonna del test quindi ho potuto fare il lavoro certo che la riga qua il colore non è proprio giallo c'è un colore diverso ci sarà da capire come mai se serve ridisegnarlo vederlo in stampa vediamo in stampa allora file stampa ed è proprio di un colore diverso vabbè insomma comunque si possono aggiungere i componenti anche qui non salvare così andiamo fuori qui chiudiamo tutto e ci siamo andiamo avanti con le domande Luigi è utilizzabile anche per creare biglietti da visita o Depliant questo programma qui ci può certe cose si possono fare per tutto ma abbiamo visto che per i biglietti da visita è l'ideale Inkscape abbiamo fatto il corso apposta però ci si può cimentare anche qui i Depliant di solito si utilizza Publisher che fa parte di Office anche quello però se non c'è quello ci si arrangia in altri in altri modi lo vedo meno bene i Depliant con Drawio però perché no se uno lo sa fare se uno ci cimenta si può riuscire ad ottenere un po' tutto allora poi Jacqueline ciao Daniele magari non ti riferivi a Drawio ma a World Online per fare questo non lo so allora Jacqueline ciao Jacqueline ciao Luigi chissà come si mette la foto sul profilo della chat quella la devi mettere nel tuo account Google cioè quando tu sei in Google Google qui tu adesso hai una lettera dell'alfabeto una cosa generica poi gestisci il tuo account Google o comunque da qui puoi cambiare la foto vediamo se schiaccio sulla macchinetta fotografica posso scegliere una foto quella viene fissata come mio account Google e dovresti averla anche nella chat qui di YouTube poi vediamo che dice Sergio utile per i flowchart di programmazione esatto assolutamente sì ciao Emanuele Emanuela scusami poi mi è scappata la chat adesso torno indietro per recuperarla vediamo cosa c'è dove ero arrivato ero arrivato qui Olindo ciao Olindo Laura Laura ma lui è Dario allora ottima lezione grazie Dario Olindo i componenti aggiuntivi possono essere aggiunti anche su Word normale sì abbiamo visto grazie a voi che mi avete fatto andare a guardare Giuseppe ciao Daniele complimenti per la chiarezza espositiva grazie grazie infinite Giuseppe e non solo dice Sergio per fortuna si tratta di Word semplificato e se era complicato come sarebbe stato eh già eh già allora Lisa si possono aggiungere subordinati moltipli ad ogni livello del diagramma sicuramente sì perché fa cose spaziali ora non ti so dire come bisognerà che lo studi un attimo però assolutamente sì Luigi bisogna essere abbonati per usare Word assolutamente no il Word online questo online è gratuito ce lo diciamo nelle prime lezioni per cui ti consiglio di guardare i primi video qui sul sito Amici di Maggiolina abbiamo la playlist qua in fondo Word online ma la trovi anche su YouTube eccoli qua cominci dall'uno così ti rendi conto di tutto quanto non serve essere abbonati è gratis allora poi Emiliano ciao Emiliano ciao Luigi grazie del mi piace Luigi Alfredo Luigi Word online è gratuito ecco bravo ci state già rispondendo Vincenzo grazie a te Syed dice io sono in Afghanistan no io sono di Afghanistan e abito in Italia ciao Syed ben arrivato allora ben arrivato qui con noi Laura ottima lezione grazie per la risposta pervenutami oggi perfetto che poi è Dario mi viene sempre da guardare collego sempre dopo il nome allora ciao Luigi vediamo se ci sono domande Nunzio dice come togliere la sincronizzazione con Google Drive come tu preferisci lo abbiamo visto nel file apposta io ora non sono sincronizzato quindi non posso fartelo vedere era qui in basso si faceva tasto destro sulla nuvoletta di Google Drive e si diceva togli la sincronizzazione ne abbiamo parlato recentemente vediamo se troviamo il video devo metterli anche qua dentro questi di OneDrive perché ci servono allora vado nel calendario dei video 2020 secondo me ne abbiamo parlato in aprile quindi sto andando in aprile cerchiamo OneDrive allora OneDrive cos'è come si usa questo OneDrive sincronizziamo il computer 192 blu in questo video si può vedere come togliere la sincronizzazione anzi facciamo così copio il link copia collegamento e lo incollo in chat tasto destro incolla così primo invio ecco nel mio messaggio giù in fondo nella chat c'è il link a questo video per cui lo puoi andare a vedere allora poi vediamo Vincenzo dice è possibile inviarti una email per farmi conoscere un po' da te certo info chioccio associazione maggiolina punto it ne ricevo tantissime ragazzi cerco di rispondere a tutti ma di certo tutte quante le leggo per cui sono benvenute Roberto scusa Daniele ho fatto la la sciocchezza di condividere le foto su Google riuscirò a ritornare a fare come voglio io certo tu puoi togliere la condivisione quindi quando sei ah dici con la sincronizzazione in teoria sì però dovrei vedere per rendermi conto allora se è una semplice condivisione così come hai condiviso puoi spegnere la condivisione sei a posto se hai fatto la sincronizzazione si può però non mi è mai capitato di vedere nello specifico questa cosa per capire come funziona di certo non è una buona cosa cancellare perché se tu cancelli le foto ed è qui il pericolo di questa sincronizzazione se quando tu dici va io le cancello da là le cancello da qui le cancello così non le ho doppie il problema è che sono sincronizzate quando tu cancelli là cancelli anche qui magari non subito ma poi si cancella per cui attenzione in questa situazione perché è facile far sparire le cose senza accorgersi poi Salvatore buonasera a te Salvatore che ore sono abbiamo ancora un po' di tempo Arnaldo è sempre un piacere grazie allora le super chat le abbiamo viste Anto no Daniele solo da pc si vede il pollice del mi piace invece da telefono durante la diretta non lo vedo bisogna andare nel video normale ho capito ho capito questo discorso sul mi piace è vero durante la diretta da telefonino io do sempre per scontato che siamo a computer invece tanti ci seguono da telefonino ci sono varie visualizzazioni ma va bene pensate mi piace e io come si dice lo considero come un mi piace ricevuto grazie infinite ragazzi Highlander dice Daniele non dimenticare di fare la diretta di Volt e infatti lo guardavo anch'io guardami prendo un altro appunto perché mi piace questa cosa lo guardavo adesso prima di iniziare sicuramente ne parliamo di questa cosa di OneDrive questo è molto interessante devo dire che non ho trovato questo servizio da nessun'altra parte trovo una bella pensata per cui dobbiamo assolutamente farlo adesso me lo sono scritto di nuovo ci proviamo Rosy devo abbonarmi per seguire le tue dirette no non serve essere abbonati per seguire le dirette per cui le facciamo tutti i tutti i giorni tranne sabato e domenica adesso è la prima volta che ci fermiamo questo sabato e domenica alle 18 trovi tutte le dirette su youtube sul sito Maggiolina e degli amici Maggiolina ci sono qui dove sono archivio delle registrazioni dirette qui dentro ci sono tutte le nostre dirette passate in ordine cronologico inverso questa è l'ultima e qui ci sono tutte le altre fino indietro sono 179 video ma ce ne sono anche molte molte di più quindi sono facili da trovare ma le stesse cose si trovano tutte quante su youtube l'unica cosa per cui serve per forza essere abbonati sono i video della serie speciale abbonati perché youtube ci ha messo a disposizione uno spazio da riservare gli abbonati che noi riempiamo con dei video e lo spazio abbonati vi si accede proprio solo con l'abbonamento allora poi vediamo cosa dice Elvira Elvira eccola qua dice Daniele ho stampato in pdf una lista di dati come nome indirizzi telefono eccetera posso portare questi dati su excel senza digitarli tutti uno per uno e no perché l'hai fatto in pdf il pdf è fatto apposta per non modificare queste cose devi provare a fare un copia e colla oppure a provare ad aprirli con word o con libre office o con google documenti e poi li potrai modificare proviamo a fare velocemente tutto questo esperimento allora in excel io avevo excel aperto ok questi li trasformo in pdf allora file salva con nome facciamo così allora aspetta torno indietro li seleziono questi file faccio stampa stampa la selezione stampa selezione la stampo in pdf pdf così riesco a ottenere un pdf di questa cosa non avrei voluto la griglia non si può togliere la griglia stampa selezione pagine orientamento verticale imposta pagina la griglia foglio griglia niente intestazione di colonna niente ok questo è il mio elenco lo stampo questo diventa un file pdf questo file pdf lo metto in una cartella che si chiama da cancellare allora da cancellare perché io metto lì le cose che putto via e la chiamo elenco elenco nomi elenco nomi nomi salva perfetto qui chiudo tutto senza salvare ok allora ho salvato l'elenco nomi questo elenco nomi se vado in esplora file a cercarlo allora rimpiccioliamo qua così non facciamo confusione elenco nomi dove allora in da cancellare è un pdf si è aperto nell'altro schermo aspettate eccolo qua un pdf allora se posso selezionarli si fatto seleziono se puoi selezionarli sei a posto sto andando a cercarli allora fammeli selezionare tutti seleziono copio ctrl c sulla mia tastiera lo strumento modifica testo consente ok vabbè ctrl c sulla mia tastiera poi vado dicevi in excel tu vado in excel foglio nuovo ctrl v e adesso posso modificarli è certo che non avendoli fatti giusti qui in excel non ci sono le separazioni quindi bisogna lavorarci potrebbe essere più facile farlo in word a questo punto vediamo se trovo word il pdf serve proprio per non word per non dover modificare un file anche qui appare così quindi puoi evitare di scriverli però ci sono insomma dovrai lavorarci un po' quello che avrei provato a fare io era ad aprirli in allora a caricarlo sul drive proviamo dai allora veloce facciamo velocemente l'ultima l'ultima questa ultima cosa allora siamo in microsoft edge ecco microsoft edge vado su allora vado su google google drive carico il mio pdf caricamento di file caricamento di file faccio velocemente ragazzi poi se lo guarderete in registrata semmai lo spiegheremo per esteso bene vado in da cancellare premo e prendo elenco nomi lo carico su sul drive ora ci sarà da qualche parte elenco nomi eccolo qua allora tasto destro apri con qui mi dice solo documenti google non mi da l'excel di google vediamo documenti google me lo trasforma da pdf in un testo normale però eccolo qua che perde sempre il grigliato l'allineamento perché appunto non è non è un grigliato forse facendo il grigliato si poteva mantenere vabbè comunque insomma questo è il discorso il pdf una volta che è chiuso serve proprio per dire questo è e per modificarlo si deve lavorare in sostanza bene ragazzi ci fermiamo qua siamo arrivati al nostro orario vedo un sacco di altre domande grazie infinite grazie infinite di tutti mi piace della compagnia che mi avete fatto in tutto questo tempo e che continueremo a farci se vorrete tutti i giorni alle 18 vi ricordo allora domani video registrato domenica video per gli abbonati e lunedì lunedì di nuovo in diretta qui ci salutiamo vado alla schermata dei saluti grazie infinite buona serata buon fine settimana e buona cena ciao ragazzi grazie infinite grazie a tutti Grazie a tutti.